E' stato presentato nella Sala Giunta del Comune di Pordenone il concerto Note Armonie in Conflitto, in programma per sabato 30 maggio alle 18 in Piazza 20 Settembre. L'evento celebra il centenario della Prima Guerra Mondiale, con l'esibizione della Fila Armonica di Pordenone e di oltre 450 alunni dei quattro istituti comprensivi, tra componenti del coro e dell'orchestra giovanile. Il progetto Note Armonie in Conflitto, su iniziativa della Fila Armonica di Pordenone, si conclude sabato 30 maggio alle 18 in Piazza 20 Settembre con la presentazione dei più famosi brani della Grande Guerra, su selezione del maestro Didier Ortolan, direttore della Fila Armonica, tra cui i più famosi Grappa, il ponte di Bassano, la Val Sugana e il punto di forza conclusivo è proprio la presenza di Francesco Tricarico che poco fa ha inviato un messaggio molto bello ed è orgoglioso di partecipare e di aver ricevuto il nostro invito, l'invito della Fila Armonica, per presentare la sua canzone Tre Colori insieme a un coro di 450 bambini dei quattro comprensivi che per il secondo anno la Fila Armonica è riuscita a coinvolgere nel progetto. Soddisfazione per l'evento nelle parole dell'assessore all'istruzione Flavia Rubino. Il Comune sostiene con molto piacere anche quest'anno il ripetersi della performance che i bambini dei quattro comprensivi hanno fatto durante la donata degli Alpini. Quest'anno lo scopo di questa performance è la rievocazione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Partecipano 400 bambini di tutti i comprensivi assieme alla scuola Mascagna e assieme anche a ex allievi sempre dei comprensivi. Vista l'importanza, visto il grande successo che hanno ottenuto i bambini, noi invitiamo tutta la cittadinanza a intervenire sabato alle ore 18 in Piazza 20 Settembre.